Quando nel settembre del 1943 la scrittrice italo-cubana Alba de Senspedes lasciò Roma per raggiungere i boschi dell'Abruzzo, aveva già sperimentato la censura fascista per il suo romanzo mondadoriano Nessuno torna indietro, che diventerà poi un vero e proprio best seller internazionale e che tratta il tema che le sarà caro per tutta la vita, cioè quello dell'indipendenza delle donne. Giunse poi a Bari dopo poche settimane su un camion di carrube, portava soltanto pochi effetti personali e aveva le calze strappate, ma qui iniziò la sua avventura di voce di Radio Bari, comunicando nella trasmissione L'Italia combatte le notizie alla parte della penisola che era ancora in armi dalla parte che invece era già stata liberata e soprattutto si rivolgeva alle donne proponendo piccoli metodi di sabotaggio perché potessero partecipare anche loro, che erano rimasti a casa, alla resistenza. Nel gennaio del 1944 fu incaricata di fare la cronaca del congresso del Comitato di Liberazione Nazionale al Piccini. Doveva essere molto diplomatica perché le diverse componenti antifasciste e gli alleati non erano ancora davvero d'accordo sulla linea da tenere, ma lei fu bravissima. Ritornata a Roma fondò la rivista Mercurio e scrisse il romanzo dalla parte di lei, che è un racconto del passaggio delle donne dalla fase della resistenza a quella dell'Italia repubblicana. Per molti anni non sono stati reperibili i suoi libri, non era possibile leggerli. Adesso invece da qualche anno sono in corso diverse ripubblicazioni e quindi i suoi libri sono disponibili alla lettura. Correte in libreria!